Tutto pronto, quinta corsa al Cerigliano di Aversa, premio vittoria, un miglio per quattro anni. 12 concorrenti già agli ordini dello starter. La chiusura dell'autostart, la rottura di Beautiful Boy che si rimette, assume l'iniziativa Baltimore-Azac nei confronti di Bruno Caff. A largo c'è Baccoido che punta in avanti e sembra voler insistere sull'avversaria. 200 metri in 15 secchi, Baccoido si ritrae in seconda posizione davanti a Bruno Caff che precede Boyalter, sollecito dalla seconda fila. Adesso anticipa la risalita di Beautiful Boy. Primo quarto in 30, insiste Beautiful Boy dopo l'incertezza iniziale, va su Baltimore-Azac e passa dopo 600 metri. Nel frattempo la rottura di Bruno Caff, 44.2.600, passaggio davanti alle tribune. Beautiful Boy, Baltimora-Azac e Baccoido allo steccato. A largo Boyalter. Il leader completa 800 in 59.4, fa qualche difesa caratteriale, deve essere richiesto da Mario Minopoli, soprattutto con le mani. In curva va un po' in giù, chilometro in 1.14.8. Beautiful Boy inseguito da Boyalter. Poi Baltimora, un po' a corto di energie, dalle retrovie. Lo scatto di Biorno P, tre quarti di miglio in 1.29.5. Beautiful Boy, Boyalter e Biorno P in terza ruota. Questi a giocarsi le migliori chance. Ingresso in retta. Boyalter si ripropone ai lati di Beautiful Boy. Lotta serrata tra i due. Beautiful Boy si riprende. Boyalter insiste a largo. Beautiful Boy, una testa davanti, probabilmente a Boyalter. Per il terzo, Birbante di Bielle. Precede. Biorno P. E questo è l'arrivo probabile ed ufficioso. Media di 1.14.6 per chi vince. Live abbiamo visto una testa di Beautiful Boy davanti. Andiamo a rivedere al Rallenty. E sì, Beautiful Boy, per la gioia di Guido e Loretta. Anche loro, ma soprattutto del team Minopoli, che ne è proprietario. allenatore è Mario Minopoli Insalchi, del figlio di Timoco e Notte di Note, che ha respinto fin sul traguardo un ottimo Boyalter. Per il terzo, Birbante di Bielle, in chiara ripresa. La media dovrebbe girarsi intorno all'1.14.5. e questo è il terzo. Grazie. Grazie.